Ieri sera abbiamo assistito ad una puntata del GF VIP frizzantina, soprattutto per i vari retroscena che ci sono stati. Tra i tanati, dal messaggio del fratello di Diane Mello alla reazione di Rosalinda dopo il regalo del fidanzato, anche la stoccata di Selvaggia Roma a Pierpaolo Pretelli e dal fratello Giulio, protagonista in diretto di questa edizione del reality. Proprio Giulio Pretelli, fratello minore di Pierpaolo, ha messo becco negli affari sentimentali dell'ex velino al punto da rilasciare una intervista a fanpage nella quale ha chiaramente detto che avrebbe preferito vedere Pierpaolo insieme ad Elisabetta Gregoraci piuttosto che al fianco di Giulia Salemi. Il giovane ha perfino ammesso che sia lui che la famiglia si sarebbero affezionati alla ex vibriatore, asserendo, con Elisabetta era qualcosa di pulito, le cose erano arrivate pian piano. Ad assistere alla querel familiare anche Selvaggia Roma, ex Vippona e presente come sempre in studio, la quale ha approfittato del blocco pubblicitario per lanciare una bella frecciatina contro la famiglia Pretelli e in particolare contro Giulio, che proprio questo pomeriggio rivedremo nel salotto televisivo di Barbara D'Urso, ovviamente pronto a commentare le scelte del fratello Pierpaolo. Tra le sue Instagram stories, Selvaggia ha commentato. Ragazzi una cosa veloce, siamo in pubblicità. Pierpaolo caccia le parole. Carattere zero. È ovvio che preferivano Elisabetta. Tuo fratello oltre a prende subito il verificato e stare fisso da Barbara, vuole fare anche un programmino. Devo dire altro? Quale sarà il programmino che tanto fa gola a Giulio Pretelli?